Salve a tutti, oggi siamo qui sul nuovo X7.6 VT Drive e andremo a vedere insieme quello che sono le impostazioni della trasmissione e le modalità di funzionamento. Dal nostro monitor DSM, se ci spostiamo nel menu trasmissione, vedete che ci compaiono tutte le caratteristiche della trasmissione. Normalmente la trasmissione è impostata per funzionare in modalità automatico, come ci compare qui. In questo caso possiamo fare una richiesta di velocità tramite il pedale acceleratore o il nostro VT Easy Pilot. Abbiamo poi la possibilità di utilizzare la modalità Cruise premendo il pulsante My 4 che è impostato da fabbrica per utilizzare il Cruise e impostando qui le velocità di lavoro desiderate. Quando invece abbiamo necessità di lavorare a regimi di motore stabiliti per eventualmente utilizzare l'idraulica, possiamo utilizzare l'acceleratore manuale o la memoria giri motore per andare in modalità manual. In questo caso avremo sempre il regime motore selezionato. Se invece ci vogliamo mettere in modalità PTO per utilizzare la presa di forza, è necessario impostare i giri motore, attivare la presa di forza e ci troveremo in modalità PTO. In questo caso avremo tutta la potenza sempre erogata alla presa di forza e la velocità che andiamo a impostare alla macchina. Nel menu 2 della trasmissione troviamo invece l'indicazione del DROP. Qui possiamo andare a vedere quella che è l'indicazione data dal potenziometro della trasmissione. In ECO per avere i migliori consumi con prestazioni ottimali, invece in POWER per avere il massimo delle prestazioni della nostra trasmissione. In questo caso andremo a vedere il regime motore massimo quando siamo in automatico e in cruise. Se invece andiamo in modalità manuale o in modalità PTO, avremo l'indicazione del primo selettore che ci dice il regime motore desiderato, mentre invece avremo un secondo indicatore che ci indica, a seconda delle impostazioni del potenziometro, la caduta di giro in motore che possiamo accettare durante il lavoro. Per quanto riguarda la trasmissione è tutto, vi ringrazio per l'attenzione.